Dal Vangelo secondo Giovanni Ma i farisei replicarono loro Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù Ed era uno di loro, disse La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta E ciascuno tornò a casa sua Che bella questo versetto Che ad un certo punto compare in questo brano Sulla figura di Gesù Sentendolo parlare in un determinato modo Dire Mai un uomo ha parlato così Quanto sarebbe importante che una frase di questo tipo Un po' ascoltando il Vangelo Ascoltando un brano importante che magari riguarda un po' la nostra storia E poter dire Mai Dio ha parlato così alla mia vita Attraverso questo capitolo Attraverso questo brano Attraverso questo versetto Attraverso la sua parola Mai Dio ha parlato alla mia vita in questa maniera Perché di fatto Sembra quasi che questo brano suggerisca alla nostra vita Che ascoltando la sua parola Questo dà identità alla nostra vita E forse da lì riusciamo anche a comprendere Quell'altra identità ancora più importante Che è il figlio di Dio Chi è lui? Alcuni Molti ne parlano in diversi modi E con determinati modi E il profeta eccetera eccetera Da dove viene? Che cosa compie? Chi è Gesù? La sua identità? Ma forse la domanda ancora più importante Chi è Gesù per me? Per la mia vita? E chi è Gesù per me? Per la mia vita? In questo momento della mia storia Dà senso? Ha qualcosa di significativo? Da dire alla mia vita? Penso che un brano di questo tipo Sia anche così Un invito bello e significativo Per imparare per tutti noi A metterci ancora di più in ascolto Della Sacra Scrittura C'è sempre una parola significativa Una parola importante Che può riguardare la nostra vita E magari poter dire anche appunto Come questo versetto Come queste guardie che tornano E non comprendono anche loro E vengono stupiti da quest'uomo E poter dire Mai un uomo ha parlato così Alla mia vita A me Alla mia vita Alla mia vita Alla mia vita